bravo charlie porta no dove l'hai lasciata dai bravissimo bravo vedete che inizia già a comportarsi con condizione di causa bravo dove dove è un maschietto quindi con lui bisogna essere un po' più severi anche per quanto riguarda la condotta ehi mi chiedi qua che per motivi di gerarchia loro tenderanno sempre a sfidare il capobranco ehi seduto seduto bravissimo charlie bravissimo adesso proviamo a far rivenire anche a lui il tartuco magliella d'addestramento arrivederci è un po' più severi anche a lui la mia è un po' più severi anche a lui che è un po' più severi anche a lui mi chiedi qui è un po' più severi anche a lui